Occhio eh, no dico occhio. Tino, siamo tornati dove? Via? Laudati sì. Ormai ci daranno le chiavi della città, anzi della via. A me, perché no? Quello è vero, perderei anche queste chiavi metaforiche. E siamo qui con Lorenzo Attivissimo, responsabile dei giovani di Forza Italia della città di Altamura, ma non perché noi vogliamo dare voce a Forza Italia, perché Lorenzo Attivissimo è stato l'unico che ha preso la cornetta. No, Antonio ti aspetta, è l'unico che si è fatto avanti a dirci io ci metto la faccia perché queste situazioni devono finire. E tra l'altro è anche raccolto diverse lamentele sul tuo telefonino. Questa testimonianza dei cittadini di Via Laudati e di tutto il centro storico perché la situazione persiste ormai da mesi e dall'estate, soprattutto in estate e anzi si sperava che con il calo delle temperature dovesse terminare, invece pare sia addirittura incrementata. Lorenzo che cosa ti scrive l'ultima che hai ricevuto? I cittadini Via Laudati e di tutto il centro storico mi segnalano anche attraverso video e testimonianze dirette risse, risse con coltelli, porte spaccate, bestemmie, furti e il centro storico sta diventando anche una vera e propria piazza di spaccio. Ecco, arriviamo anche perché poi dove si radunano 500 ragazzi? Chi volete che ne approfitti? A parte io per fare il servizio a sostegno dei residenti, ne approfitta chi deve smerciare? Cocaina e roba boh, dipende da come vi è tagliato. Caro Antonio, la cosa che preoccupa è l'età di questi ragazzini che si incontrano nei claustri e nelle vie del centro storico, pare che a quanto mi dicono i residenti che l'età è anche molto bassa, parliamo di 12 anni, 13 anni, 14 anni. Tra l'altro sono anche quelli che ci hanno raccontato, sono i più accaniti nei confronti di Tommaso e Mino, anche addirittura si parte dai 10 anni, queste baby gang giovanissime, di bambini, perché sono bambini a 10 anni, sono bambini, il tino, che importunano i residenti. Tommaso e Mino, ma anche degli anziani, ricordo a chi ci ascolta e chi ci vede che il centro storico è abitato da tantissimi anziani e vengono presi di mira proprio gli anziani, quindi è un fatto gravissimo e questo dimostra ancora come la questione sicurezza ad Altamura sia una delle criticità più importanti. E qui arriva un'altra cosa, c'è stata data una indiscrezione da fonti baresi che segnalano il fatto di poter eventualmente fare addirittura un'interrogazione parlamentare rispetto a questa storia. Ho preso l'impegno, appena ho ricevuto le testimonianze del centro storico, di avviare e preparare una interrogazione parlamentare urgente al ministro dell'interno, proprio per capire la reale situazione anche dal punto di vista della disponibilità delle forze dell'ordine sul nostro territorio. Sono poche, questo lo diciamo con certezza. Sono pochissime, Altamura conta più di 70.000 abitanti e noi condividiamo la compagnia dell'arma dei carabinieri con le città limitrofe, quindi abbiamo a malapena una pattuglia a notte sul nostro territorio altamurano, quindi se la pattuglia sta intervenendo nel quartiere periferico non potrà sicuramente essere d'aiuto agli abitanti del centro storico. Altro tasto dolente è il comando dei vigili urbani, pare sia sotto organico, ma è un dato di fatto, la realtà, che siano sotto organico del 45-50%. E inoltre la cosa gravissima è che in una città grande come la nostra, che ha un centro storico enorme, dopo Bari, è una delle più importanti e delle più grosse, il comando chiude alle 22.00. E' un fatto gravissimo perché soprattutto in estate questi fatti si verificano proprio dalle 22.00 in poi. Capito, noi lo diciamo che la burocrazia ci ammazzerà tutti molte volte, perché i tempi della burocrazia non coincidono con i tempi dell'uomo, questa è la verità. Cioè, come fai? Bisogna intervenire. Chissà che adesso non si riesca in qualche maniera ad avere un maggiore controllo del territorio perché questo serve. Ci sono risposte dal governo centrale e anche dall'amministrazione comunale perché nulla è stato fatto. Con i cittadini del centro storico avvieremo anche una raccolta firme che dal mio punto di vista servirà pochissimo. Però dobbiamo continuare a far sentire la nostra voce perché è veramente vergognoso che i cittadini di Altamura si debbano fare giustizia da soli, debbano scendere alle proprie case e combattere con questi ragazzini. E' una vergogna, è una vergogna. 85 anni Pietro. Comunque, Tino, per ora e solo per ora, sempre da Via Laudati, ma noi andremo anche da altre parti con la speranza che magari non serva perché prima intervenga qualcuno, lo sappiamo. E' quasi tutto, Tino. Canta, canta. Che cosa devo cantare? Lauda. No, vabbè, vabbè, tu sei veramente irrecuperabile. Grazie.